Un ingegnere marchigiano, Andrea Falcucci, ha progettato in pochi giorni un prototipo automatizzato di respiratore manuale che potrebbe essere di aiuto al personale medico e infermieristico, un'idea progettuale che ha deciso di mettere a disposizione della Regione Marche e nello specifico del servizio sanitario come contributo operativo per affrontare la difficile situazione emergenziale dovuta al coronavirus. A spiegare le specifiche tecniche del prototipo è lo stesso ingegnere Falcucci. Dopo 5 giorni di sviluppo sono detto di presentare il prototipo di movimentazione automatica per quanto riguarda il respiratore manuale di tipo AMBU. L'idea di partenza è stata quella di prendere un carrello cinematografico motorizzato e di modificarlo affinché potesse comprimere questo tipo di dispositivi. Ovviamente le dimensioni di un carrello cinematografico sono ben più grandi rispetto a un palloncino da 13 centimetri di diametro ed è per questo motivo che è stato generato un nuovo progetto, questa è la sua realizzazione. Il sistema è dotato di un motore retroazionato e di vari sensori che controllano posizione, velocità, resistenza offerta al respiratore e presenza dello stesso ovviamente, oltre a tutta un'altra serie di parametri. È stata già predisposta una porta di espansione per inserire un display, nel caso fosse utile, e sono presenti altri ingressi per tutti i sensori necessari a rendere il prodotto più ad uso spedaliero come flussimetri e pressostati. Oltre a necessario è noto pulsante di emergenza per un arresto in tutta sicurezza. Tutti i pulsanti operativi sono i P54 e quindi sono prodotti che possono essere disinfettati senza preoccuparsi della presenza dell'elettronica a bordo. Anche la stessa manopola di controllo di tipo Ruggerized e quindi può supportare importanti urti durante l'uso. Dal momento che i respiratori manuali AMBU condividono lo stesso four factor, anche se le dimensioni effettive possono variare in base al modello a disposizione, ha deciso di semplificare al massimo il sistema di bloccaggio creando una sorta di imbragatura molto semplice ma estremamente efficace in modo tale da rendere il sistema universale. Una volta acceso il sistema è in grado di definire tutti i parametri cinematici di lavoro in maniera completamente automatica, definendo in modo prioritario ed evidente sia la corsa che la verifica dalla presenza del ventilatore, come in questo caso. Una volta in posizione è sufficiente premere il pulsante di avvio per iniziare la sequenza di movimentazione. Attualmente è tarata per circa 12 cicli di ventilazione. Tutti i parametri di ventilazione possono essere variati tramite app per Android o iOS, dal momento che il sistema è in grado di generare un access point Wi-Fi dedicato, oltre che tramite software per PC e Mac tramite USB o tramite porta di espansione, quindi tramite display. Ma dal momento che l'idea di base è quella di automatizzare un ventilatore manuale, il focus di tutto il progetto si è incentrato sulla correlazione diretta tra quantità di aria che viene espulsa dal ventilatore e la compressione dello stesso e quindi, in questo caso specifico, alla corsa effettuata dal carrello. In questo caso non stiamo comprimendo il carrello. Tutto quindi ruota intorno a questo parametro, operazione che viene gestita semplicemente dall'unica superficie di controllo offerta dal sistema. Essendo questa regolazione non solo legata alle etane grafiche del paziente, il volume polmonare di un bambino è del tutto diverso da quello di un adulto, ma soprattutto lo stato in cui il paziente si trova, tale regolazione è protetta da accidentali variazioni della manopola. Infatti se io vado a movimentare la manopola non abbiamo nessun tipo di output. Per far sì che il sistema accetti questa regolazione è necessario mantenere premuto per più di due secondi il pulsante di controllo. In questo caso il sistema sta operando con questo parametro, quindi se io anche lo vado a variare non abbiamo una variazione. Per far sì che questa variazione venga accettata è necessario tenere premuto il pulsante per due due secondi. Ipotizzo l'uso di questo tipo di attrezzatura in tutte quelle situazioni in cui potrebbe essere difficoltoso garantire un'alimentazione elettrica proprio perché il sistema nasce per operare la batteria e quindi può continuare a operare per ore. Quindi immagino situazioni in mezzi di trasporto, in strada, in spiagge, in montagna. Come ribadito non è un punto d'arrivo ma di partenza e mi auguro che questo possa essere uno spunto per sviluppi futuri. Tutta l'idea progettuale viene resa alla Regione Marche, soprattutto al servizio sanitario, in modo tale che possa essere operativamente un aiuto contro questa difficile situazione emergenziale.